Ciao, benvenuti o bentornati in un nuovo video anche lo stato pietoso di oggi è giustificato perché oggi andremo a fare una mega maschera ai nostri capelli 100% naturale e 100% performante l'unico ingrediente che andrò ad utilizzare oggi per questa maschera è l'olio extravergine d'oliva nel mio caso quello della monini ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di olio extravergine quest'estate ha rovinato i miei capelli davvero tantissimo non è che abbiano le doppie punte però sono molto 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 secchi quindi era davvero arrivata l'ora di andare a ridare vita a questi capelli quasi morti cioè guardate sono davvero secchissimissimissimi e quindi bando alle cianci adesso vi lascio subito al video ma prima sigla! più li avete secchi e più olio dovete utilizzare se avete la cute grassa l'olio non lo andate a mettere soltanto verso le punti se invece avete la cute mista o normale volendo potete andare anche qui sulla cute ma non è necessario perché la cute di natura produce il sebo e il sebo è un olio naturale che viene direttamente dal nostro corpo quindi non c'è assolutamente bisogno di andare a mettere l'olio qui sulla cute insomma noi andiamo a mettere il nostro olio ho i capelli super super secchi quindi a me non interessa avere poco olio nella testa anzi più olio metto e meglio è dato che qui ho i vari livelli vado a mettere 100 ml di olio poi vediamo se aggiungerne un po' di olio potreste usare dei guanti ma se avete visto il video in cui sono andata a colorare i miei capelli di verde smeraldo avrete sicuramente notato il panico che avevo per il fatto che lo riuscivo a trovare nei guanti quindi niente guanti anzi l'olio extravergine d'oliva fa bene anche alla pelle quindi andremo ad utilizzare le mani nude ovviamente lavate sono andata a riempire questo flaconcino di acqua e niente adesso vado a spruzzarmi un po' di acqua sui capelli in modo tale che si inumidiscano un pochino ma non troppo e niente adesso con l'aiuto di una spazzola a setole larghe la mia spazzola a setole larghe è questa spazzola qui delle Barbie ecco noi che abbiamo le setole larghissime però comunque non sono neanche super sottili è che mentre preparavo questo video non riuscivo a trovare altre spazzole quindi ho detto vabbè adesso andiamo a legare la parte superiore dei nostri capelli inumidiamo ulteriormente e soprattutto le punte perché andremo a mettere l'olio soprattutto sulle punte e niente adesso andiamo a immergere le nostre dita sull'olio e andiamo a distribuirlo in modo omogeneo sui nostri capelli concentrandoci soprattutto sulle punte e adesso questo è uno step che potrei anche non mostrarvi e farvi vedere direttamente il risultato soltanto che spero con questo video come in tutti gli altri video di farvi compagnia e di fare quindi questa maschera con voi quindi mi auguro davvero tantissimo che in questo momento anche voi stiate nella mia stessa situazione ovvero far rivivere i vostri capelli in questo momento io e voi se state facendo questa maschera siamo dei dottori per capelli ok primo strato impregnato adesso andiamo a finire il nostro impacco con l'ultima ciocca cioè guardate ho i capelli veramente secchi non riesco infatti a pettinarli fanno un sacco di nodi eppure io sono una persona che si prende sempre 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 cura dei propri capelli soltanto che l'estate la salsedine il caldo non sono amici dei nostri capelli quindi dato che non riusciremo mai a controllare gli effetti collaterali della stagione estiva dobbiamo armarci di buona volontà e andare a curare i nostri capelli in questo caso andarli a curare in un modo del tutto gratuito perché volete andare dal parrucchiere a pagare delle mega ristrutturazioni al capello che costano tantissimo no! dovete semplicemente utilizzare l'olio extravergine d'oliva che abbiamo tutti in cucina e che costerà sì e no 4 euro ma dura davvero tantissimo comunque bando alle ciance che io ciancisco sempre tantissimo andiamo a inumidire ulteriormente questa parte di capelli soprattutto le punte olio e cominciamo adesso voglio mostrarvi da vicino l'olio che va a finire nei capelli non so se sia una bella visiole per voi ma a me tantissimo guardate quanto sono lucidi e impregnati sto girando il video dell'impacco c'è una persona qua dietro che è venuta a casa mia perché non ha posto comandare e che cazzo una casa eh sì io sono un po' una barbona e sicuramente l'avete già vista nel video precedente a questo perché lei è carina ciao i baci la ragazza del video in cui sono andata a gli altri capelli quindi del video della pazzia adesso sto sudando come ti drammico sti capelli bene bene ok ho quasi finito adesso me li voglio pettinare un attimino perché ma quella è acqua o olio? olio ah ti vedi come mi faccio sul pello no l'acqua l'ha già spruzzata ok olio ha messo adesso dobbiamo aspettare 30 minuti che l'olio faccia effetto poi andiamo a lavarci i capelli con il nostro shampoo preferito e anche un po' del nostro balsamo preferito dopodiché scegliete voi se asciugare i capelli col fono o al vento io lo asciugherò con il fono perché al vento mi viene sempre mal di testa e ci vediamo tra pochissimo per il risultato finale non vedo l'ora ciao ma dopo guardate le mie mani lo shampoo che sono andata ad utilizzare è ovviamente lo shampoo dell'herbalife che è uno dei miei shampoo preferiti sono andata ad utilizzare anche il balsamo in abbinamento comunque asciugare i capelli con 54 gradi all'ombra è veramente una tortura però devo farlo per forza perché se bella vuoi apparire un pochino devi soffrire pausa pettinatura se avete già visto i video in cui vi mostro come asciugo i capelli saprete già che asciugo i capelli dall'alto verso il basso per andare a creare una sorta di piega più o meno liscia ecco perché se andate a fornare i capelli in questo modo i capelli non si vanno ad allisciare più di tanto bensì potete rischiare di renderli un po' più crespi del previsto o un po' più goffi del previsto quindi se volete una piega liscia e non volete andare a metterci tre ore a fare una messa in piega con spacciola e forno vi consiglio di folarvi i capelli dall'alto verso il basso e comunque alla fine del video vi lascio la playlist la andate a cliccare e andrete a vedere tutti i video che ho realizzato fino a oggi riguardo ai miei capelli e ai capelli di altre persone guarda quanto si muovono bene ok comunque continuate ad asciugarli ok i capelli sono asciutti questo è il risultato finale spero davvero che vi piaccia e che riusciate a vedere la differenza i capelli sono davvero morbidi, districati spero di non arrivare a stasera con i capelli già sporchi perché non riesco a smettere di toccarli vi consiglio vivamente questo metodo con l'olio d'oliva ma non lo fatelo spesso fatelo che so una volta al mese quando vedete che i capelli sono davvero molto 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 rovinati e volete ridargli vita con questo video vi voglio dimostrare che per avere dei capelli belli e sani non c'è bisogno di andare dal parrucchiero o di spendere chissà quanti soldi potete farlo benissimo a casa da voi con degli impacchi fai da te e se volete proprio un effetto super 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 bellissimo come se foste davvero usciti dal parrucchiere dopo questi impacchi potete mettervi tranquillamente in piega i capelli che so con l'ariccio a capelli vi fate i boccoli o con la piastra vi fate i capelli lisci infatti io sono intenzionata a fare i capelli lisci infatti fra un pochino o alla fine del video vi mostrerò anche l'effetto con la piastra spero davvero di avervi tenuto compagnia lasciate un like se il video vi è stato utile se l'effetto finale vi piace lasciatemi giù nei commenti qualche altra ricetta di impacchi fai da te perché sono davvero davvero curiosa di provare e testare altri impacchi ma soprattutto iscrivetevi al canale se volete entrare a far parte anche voi di questa community di crazy fashioniste noi ci vediamo in un prossimo video ciao crazy fashioniste ciao